Si aggiunge di nuovi provvedimenti il regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Pesaro approvato a giugno 2022 dal Consiglio Comunale. Un regolamento promosso dall'assessora all'innovazione Francesca Francoellucci che si sta costruendo in questo mese di gennaio anche alla luce dei suggerimenti di cittadini e associazioni che ogni venerdì mattina trovano udienza nello sportello partecipazione allestito nell'ufficio dello stesso assessorato. In tal senso la Giunta Comunale ha approvato tre nuove regole che le attività del centro dovranno applicare. La prima riguarda l'uniformità nella tinteggiatura e nei materiali per gli accessori di decoro come fioriere, rastregliere e ceneriere. Disposizione che prevedono requisiti di forma, materiali e dimensioni. Infatti come si vede nel dispositivo approvato oggi gli arredi dovranno essere di forma rettangolare, semicilindrica, cubica o a tronco di cono, dovranno essere fatti di acciaio o ghisa e dovranno essere verniciati tutti in tinta grigio grafite. L'assessore Francoellucci riferisce che le attività e i residenti che non rispetteranno il regolamento saranno soggetti a sanzioni che vanno dai 150 ai 500 euro. La seconda regola approvata oggi riconosce la possibilità di convenzioni con i privati che intendano inserire nelle vetrine di esercizi sfitti opere d'arte di pittura, scultura o ceramica. Si potranno infatti stipulare accordi anche attraverso collaborazioni con agenzie e istituti scolastici per migliorare la percezione visiva delle vetrine non utilizzate. Un intervento che il comune già avviò sotto covid nelle vetrine delle agenzie di viaggio. La terza regola applicata riguarda le deiezioni dei cani. Il regolamento impone di raccogliere gli escrementi e pulire immediatamente anche le deiezioni liquide gettando subito acqua. Chi è colto in fallo incapperà in una sanzione di 100 euro. Disposizione quest'ultima in cui il senso civico arriva ancor prima delle esigenze di decoro.